Allora, il titolo è provocatorio, ma seguitemi nel ragionamento. Ecco le ragioni per cui fare liceo classico e liceo scientifico è il male. Iniziamo. Partiamo dal presupposto che in terza media, a 14 anni, scegliere la scuola superiore per i 5 anni successivi non è una grande idea. Molti la scelgono senza razziocini oppure influenzati da fattori esterni. Dove vanno i propri amici a studiare? Cosa gli dicono i genitori? Guarda, io ho fatto questa scuola qui, quindi tu dovresti andare qui. Oppure qualsiasi tipologia di consiglio dei genitori non basata su quello che piace allo studente ma piuttosto su quello che piace agli genitori, quello che gli piacerebbe che facesse oppure, ancora meglio, gli orientamenti che sono fatti, secondo me, per distogliere lo studente, ingannarlo a scegliere quella scuola lì. Molto spesso ci sono esperienze che vengono mostrate, esperimenti di laboratorio, cose fantastiche, che dici, wow, è fantastico, pazzesco, voglio troppo andare in questa scuola qui. Quando poi quest'ultime verranno riproposte una, due. Poche volte, diciamo. Infatti, ogni scuola superiore ha un sacco di interessi economici nel farti venire nella sua scuola. Infatti, se entra nell'istituto, poi lo Stato vedrà «Ehi, quella scuola lì ha più studenti, diamogli più fondi, più soldi» e quindi funzionerà meglio. Inoltre, anche gli studenti sono invogliati ad andare a questi open day dove si mostrano le scuole per via del fatto che sono ore di alternanza scuola-lavoro che servono per l'esame di maturità. Cioè, non sto dicendo che sia tutto finto, sto semplicemente dicendo che non basatevi troppo su quello che dicono i professori, ma piuttosto su quello che vedete, sugli alunni come sono, sui professori come sono, sulle scuole come sono. Secondo punto, i prof delle medie. I professori delle medie danno un giudizio, un consiglio sullo studente in base alle proprie attitudini. Se sei un po' bravino e ti piace la matematica, ti consigliano liceo scientifico. Se sei un po' bravino e ti piace l'italiano, comunque non apprezzi particolarmente la matematica, ti consigliano un liceo classico. Lì devi essere proprio bravino. Ecco, secondo me non ha senso questo. Quello che ho capito nel corso degli anni è che la vera cosa importante alla fine in una scuola non è tanto le materie che si fanno, ma i professori che si incontrano e la tipologia di compagni che si trovano. Se ci si trova bene con i professori, se ci si trova bene con i compagni, si può fare qualsiasi scuola. Vabbè, non proprio qualsiasi, però diciamo, si sta bene in ogni caso. Ma ecco le mie critiche principali al liceo classico. Andiamo con ordine. Prima di tutto c'è da dire che c'hanno un merito. Effettivamente il liceo classico mantiene le sue promesse. È un liceo classico, fa materie classiche. Se andiamo a vedere l'orario delle ore settimanali, vediamo che ci sono 16 ore nel biennio di materie classiche e 19 ore nel triennio di materie scientifiche. Il biennio, per chi non lo sa, i primi due anni, prima e seconda, e il triennio terza, quarta e quinta. Quindi sì. Perché aumentano? Perché si aggiunge filosofia e storia dell'arte. Mentre invece le ore di materie scientifiche sono 5 nel biennio e 6 nel triennio. Quindi un rapporto, sì, 10 a 5 e 19 a 6. Direi che è buono, per uno che gli piacciono le materie umanistiche. Le critiche iniziano qui, però. Sei proprio sicuro che ti piacciono le materie umanistiche? Se fai il classico, cosa ti piace? Italiano? Storia? Ti possono piacere queste due materie rispetto in base a quello che sai dalle medie. Magari storia dell'arte, però se ti piace storia dell'arte, fai l'artistico, quindi facciamo italiano e storia. Italiano? Beh, ne hai 4 ore. Contro 5 più 4 di greco e latino. Quindi c'è il doppio delle ore di greco e latino rispetto a qui italiano nel primo anno. Poi nella terza, quarta e quinta non è il doppio, un po' meno, però è comunque molto superiore. E di storie invece c'hai 3 di ore. Quindi siamo proprio sicuri che sia la scuola adatta a te. Non è che ci sono migliori opzioni nella tua zona. Puoi considerare, ecco. Anche perché se ti piacciono le lettere antiche, studiarle e capirle, sicuramente è la scuola perfetta per te, non c'è alcun dubbio. Ma più che altro, quello che non apprezzo del liceo classico è la selezione di persone che viene scelta e la conseguente possibilità di una competitività altissima. Infatti, chi è che viene detto fai liceo classico, ai più bravi di tutti, a quelli che piacciono tendenzialmente le materie umanistiche, non tanto le scientifiche, anzi le disprezzano. Nelle medie sono sempre stati tra i migliori, se non i migliori della classe. Quindi una volta alle superiori dicono bah, sai che c'è? Voglio mantenere questa cosa. Voglio comunque essere uno dei più bravi. E quindi si innesca questa competitività. Che sicuramente è utile, perché alla fine fa dire alle persone sai che c'è? Siamo sempre più bravi ed è un loop positivo. Però può essere anche un loop di ansia, stanchezza che si accumula e che fa peggiorare la salute mentale delle persone. Io ho visto molti quasi esauriti del liceo classico che dici ma perché fai questo? Perché non ti va bene magari 9 rispetto che a 10? Si possono venire a creare delle dinamiche tossiche all'interno della classe che beh, non sono tanto piacevoli. Cioè non significa che non ci possa essere amicizia tra i membri della classe. Sicuramente ci può essere. Però non so se vivere con questa ansietta può essere conveniente per 5 anni della propria vita. E inoltre i professori. I professori si adattano alle classi. Se vedono che una classe è fatta di gente motivata e che comunque vuole sempre studiare, cosa farà? Gli darà più studio. Gli dirà guarda, ma se vuoi ti do questo approfondimento qui. Anzi no, non ti do. Fai questo approfondimento qui. Se prendi magari 9 rispetto che a 10 oppure 8 rispetto che a 9 ti dicono eh sì però non sei stato bravo dovevi migliorare eccetera quando hai preso 8 cacchio non hai preso 3 e mezzo. E quindi sì ti pongono anche più mole di lavoro. E se lo fa 1, 2, 3, tutti sappiamo che succede no? Si alimenta tutto. Quindi questa è la mia critica al liceo classico. Mentre invece il liceo scientifico è quasi diametralmente opposta. Nel senso che il liceo scientifico normale di prassi è di coloro che apprezzano le materie scientifiche, no? Allora andiamo a vedere lo sto orario le ore settimanali dedicate alle materie scientifiche. Infatti le materie scientifiche che sono matematica, fisica e scienze occupano 9 ore nel biennio prima, seconda e 10 ore nel triennio terza, quarta, quinta alla settimana. Mentre invece le materie umanistiche italiano, latino, storia, storia dell'arte ne occupano 12 nel biennio e 14 nel triennio con motori, inglese e religioni che occupano sempre 6 ore per tutti i 5 anni. Le ore di materie umanistiche quindi sono un po' superiori rispetto a quelle di materie scientifiche. Quindi chiamare questo liceo scientifico suona almeno personalmente a me un po' forviante. Cioè io proporrei un altro nome ed è tipo liceo o liceo normale anche perché è il più neutro di tutti. Non ho particolari commenti da fare sulla gente del liceo scientifico normale anche perché boh è gente normale non c'è particolare competitività almeno da quello che mi sembra a me generalizzata quindi boh ci sta. Terzo punto il vero liceo scientifico una volta appurato che il liceo scientifico sia un po' il liceo normale il liceo ci dovrà essere un liceo scientifico ed effettivamente negli ultimi anni secondo me si è venuto a delineare un vero liceo scientifico ovvero liceo scientifico scienza applicata che tra l'altro è quello che frequento io nel senso che effettivamente se andiamo a vedere nel quantitativo di ore fatte da materie scientifiche e materie umanistiche il totale delle materie scientifiche è 12 nel biennio e 14 nel triennio mentre invece le materie umanistiche sono 9 nel biennio e 8 nel triennio con sempre 6 ore tra inglese e religione motoria in questa scuola viene eliminato il latino per aggiungere l'informatica e dare comunque un po' più di ore alle altre materie scientifiche la critica principale che sento sempre cioè non cioè è assurdo è sì vabbè però il latino è importante ti dà la forma mentis e questo non cioè io non voglio mettere in dubbio questo dire oh è inutile il latino non serve a niente perché è inevitabile che serva a qualcosa immagino anche se non l'ho mai fatto dico solo che ok è fondamentale il latino per voi ma credete sia meno fondamentale del dell'informatica ai tempi d'oggi nel senso che anche l'informatica la programmazione dà una forma mentis problem solving che comunque è diversa rispetto a quella che viviamo tutti i giorni e può aiutare un sacco soprattutto per uno che vuole fare materie scientifiche o è meglio il latino mi sembra una risposta abbastanza semplice da rispondere però magari no ditemi la vostra opinione nei commenti io frequento questo liceo da 4 anni sono in quarta superiore e sì è figo cioè fa quello che dice diciamo solo che come ho detto all'inizio tutto dipende dal professore che ti trovi ad esempio io mi sono trovato un professore o una professoressa di italiano che mi ha fatto studiare l'italiano e sono abbastanza bravo dato che i professori comunque girano e possono fare un anno una classe del classico poi l'altra è dello scientifico l'altra è dello scienza applicata quindi non c'è una superiorità in termini di ok là ci sono i professori più bravi e lei più cattivi quindi no purtroppo molti pensano che fare liceo scientifico scienza applicata sia fare liceo semplice liceo facile almeno in prima molti entrano con questo presupposto solamente che poi nel corso degli anni beh te ne rendi conto non è assolutamente liceo semplice dato che la mia classe può confermarlo nel numero delle persone che sono presenti in prima eravamo tipo in 23 25 27 non mi ricordo comunque eravamo in molti attualmente siamo in 14 con gente che si è trasferita gente che ha deciso di cambiare scuola gente che ha deciso di essere bocciata quindi sì un po' quello quindi sì questo era il mio pensiero se uno vuole scegliere che un liceo classico gli consiglio vivamente di fare magari corsi specializzazioni che fanno alle medie per vedere come è fatto il latino se proprio lo odi vivamente beh sai cosa fare magari e niente se avessi visto questo video qualche anno fa mi sarebbe stato utile quindi spero sia utile a voi se vi piacciono questa tipologia di video per esempio ho fatto un video su come studio ora solo con ipad lo trovate qua in alto vi consiglio di guardarlo e poi magari iscrivervi e ci si vede presto con un nuovo video e ciao gente ciao 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 ciao